Oggi ho deciso di farvi vedere il miglior landing spot della stagione 1 capitolo 5 di Fortnite signori Ed è esattamente qua, a distese del duello, nonostante ci sia ovviamente un team intero qua ragazzi È un classico questo ormai, eh Raga è pieno Ah, ovviamente, logico, logico, logico Logico, sì, è logico, ucciso Ok, Ferro, venimi subitissimo a restare prima che arrivino i compagni di questo qui regà Ora, vi chiederete Ref, ma perché è il miglior landing spot? Perché c'è un giro per avere ben due medaglioni, non uno ragazzi, ma due Che adesso vi faccio vedere se riusciamo a sopravvivere e uscire Perché purtroppo, raga, sta roba qua di landing spot lo rende più difficile È sopravvivere al landing spot proprio, capito? Oh, oddio, chi è che è stato aperto? Io l'ho aperto pure io, ok, ho veramente poca vita Bravissimo, 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 Ferro Poi fuori ci stiamo a medikit, restate veloce Vai, vai Ok, un HP, morto, 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 morto No, no, vai, resta, 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 resta È morto? Sì, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato Sta prendendo il boss Ok, ragazzi, dobbiamo lasciarlo fare, dobbiamo lasciarlo fare Allora, può affinare il kill là tu Sì, l'ho uccido, bomba Ha lasciato tutto il loot, sto poverino Due kill, perfetto Abbiamo là il boss che è ancora vivo, regà E potrebbe essere anche che il boss, raga, uccita i nemici, eh Uh, aspetta, aspetta, eh, lo stanno uccidendo Mi sa che prendono il medaglione Ok, andiamo, ora andiamo, regà, ora andiamo, ora andiamo Ricordatevi che ora il Ferro ha veramente poca vita, eh Eh, lo so, Ferro, se vieni da me, però forse io ho 20, ho 10 vita da darti, se vuoi Oh, interessante Ne ho 30 ora Ok, raga, davanti 24, ho craccato, 1,96 di bianco gli ho fatto, eh, 96 bianco Vai, botta, andate Signori Urgo, Ferro, vieni Sono mie, è il momento del fight Ok, occhio, occhio Ok, distrutto Dove stanno? Ahia Ok, Martuno, Martuno, Martuno E ripetiamo Oddio, dove mi... Ah, Ferro mi ha lanciato troppo lontano Da me è quasi uno, guarda, ho ucciso quello con l'arma Ma è l'ho piccolato, l'ho piccolato, l'ho piccolato Bravo, perfetto Wow, regà, 5 kill Ferro, tu mi hai sabotato, mi hai voluto far andare lontano perché non volevi che facessi kill, vero? No, 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 ho fatto praticamente la giocata della vita io con sta cosa Allora, regà, adesso, obiettivo prendere il medaglione del bot, che non so dove sia però, regà, mi sa che sono scappati Eh, ce l'ha il bro, ce l'ho già preso io, guarda, guarda Ah E se mi dai ancora un secondo... Eh, sai, diciamo che qualcuno si era andato dall'altra parte No, 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 qualcuno si era andato dall'altra parte, qualcuno me l'ha rubato Senti, senti Allora, regà, come vedete abbiamo il primo medaglione, abbiamo l'arma che per me è la più forte, regà, del gioco, proprio Cioè, la più forte del gioco Confermo È assurdo e illegale Raga, questa è veramente la più forte del gioco e adesso dobbiamo iniziare a fare il giro che vi volevo far vedere prima, ok? Questo giro qua, regà, se lo riusciamo a portare a termine, abbiamo due armi mitiche e due medaglioni, capito? Cioè, mica pizze figli, ok? Uh, raga, pompa d'oro, oh, finalmente un po' di fortuna anche per Powa, raga Vabbè, oddio, è sempre fortunato Powa, non so perché dice adesso un po' di fortuna Zero possibilità, zero possibilità Sempre fortunato, l'idiota, ma fa finta di non essere fortunato, incredibile, ok Tra l'altro il nostro Powa che è fortuna dobbiamo anche proteggerlo, ora, tu pensa Ma guarda, tanto me li mangio tutti, provate a venire, li mangio Oddio, non credo, purtroppo li mangerai Comunque, raga, la cosa dei mirini, fidatevi, imparatela perché è letteralmente assurda Ragazzi, però adesso io vi devo un attimo fermare, perché? Adesso è il momento di fare il giro che tanto volevo farvi vedere, ragazzi Perché da discesi del duello, in teoria, dovremmo andare verso scalini spocchiosi A prendere il prossimo medaglione del team che esce, ok? Ma sto notando, raga, che in realtà il team non l'ha ancora preso il medaglione Uh, damn Quindi È una cosa positiva o negativa? È positiva, raga, perché in realtà abbiamo due offri di medaglioni, praticamente Let's go! Ok, Powa, quando vuoi salire qua? Ragazzi, si sta volando! Si vola! Oddio, non fate rimontare Powa! Oddio, oddio, come faccio a essere in tutto ciò ancora dentro? Ecco, appunto Appunto Signori, è ancora là il medaglione che voi riusciate a notare? Presumo di sì, perché non c'è Sì, sì, è ancora là Perfetto, signori Siete pronti a vincere la partita con due medaglioni? Ammazza, direi Cioè, tu più che altro userai due medaglioni Oh, no, no, raga L'userai anche uno di voi Non posso tenerne due Tanto non cambia niente, ragazzi Con uno o due medaglioni Perché? Ragazzi, i medaglioni cambiano solamente se ne avete dai 4 ai 5 Che vi cura tipo 8 di vita, una roba del genere Fuori di testa Ok? Raga, raga, guardate Sta perdendo vita il boss E raga, lasciate lucida da safe Che forse è anche meglio Ma è incredibile Nessuno è andato in sto posto Assurdo, comunque E ragazzi, mi raccomando Voi intanto lasciate un bel like Per il miglior landing spot di Fortnite Ma soprattutto Mettete il codice REFE Sempre per il miglior landing spot di Fortnite Peter, muori Peter! No, Peter Peter! Peter, brutto scemo Ero tu che Peter! Allora, io mi prendo questo Voi prega, prendetevi tranquillamente il medaglione Abbiamo due armi mitiche Due medaglioni È il momento di arrivare a Unreal, signori E ragazzi, una volta che avete preso due medaglioni E quindi comunque diciamo che la vostra partita è tutta molto in discesa, ok? Se voi foste da me, raga Staremmo per prendere anche Dicevi? Una delle cose più utili su Fortnite Ovvero, la roba che ci fa vedere dov'è la safe, signori Che tra l'altro dovrei aver appena presa Ed eccola qua, infatti E raga, adesso, grazie a questa roba Io so anche Noi sapremo anche dov'è la safe Quindi, direi che Non possiamo proprio più perdere, ragazzi Cioè, due medaglioni Sappiamo dov'è la safe Se perdiamo siamo anche un po' scarsi, no? Noi ragazzi, ci stanno persone qua davanti, eh, scarsi o no? Oh! No ragazzi Ercio snipe No, ma non l'avete capito Oh mio Dio E perché ragazzi, comunque poi ricordatevi se vuoi una cosa Avere ferro in team, comunque Semplifica anche un po' le cose, capito? Le semplifica, raga Un po' Ma dov'è che sono? Eccoli, stanno pushando 26, 51, distrutto 76 È craccato, bianco, bianco Il vostro po' walla laserato Ma sicuro che sono pure bravi questi, purtroppo, eh Cioè, oddio, purtroppo Beh, purtroppo, oddio Ragazzi, attenzione, c'è uno dietro, c'è uno dietro, c'è uno dietro Che è appena scappato Eh, ovviamente, tanto per cambiare, appena ci vedono La ragazza, reboota, reboota, reboota Andiamo, andiamo, andiamo Ma perché vuole rebootare? Non lo so, ragazzi È entrato nel cambio del reboot, però, eh Questo posso garantirlo Oddio, è andato via Distrò morto Ma niente, mi ha rubato la kill, po' walla L'avevo disintegrato, dilaniato proprio Ma refe, l'importante è farle kill Chi se ne frega, chi le fa Ho sbaglio Eh, no, finché le fa Finché le fa Powa, ragazzi È così Poi appena le rubiamo una Powa Refe Ma cosa fai, refe Ma Per me l'importante Vici alla partita Idiota Se posso dire una cosa Prima io Hai fatto proprio l'impersonificazione di Powa In quel Grazie, Ferro Sono bravo, vero? Sì, molto Appare tutto, ragazzi Powa Abbiamo completato la tua taglia Sei stato protetto Abbiamo vinto un po' di oro Probabilmente Abbiamo la prossima safe Che praticamente è qua Attaccata a noi Regà, non possiamo veramente perdere E qua non possiamo veramente perdere Ve lo giuro E se perdessimo, raga? Eh, poi va Ti iscriveranno dal tuo canale No, zero possibilità Zero possibilità No, no, lo faranno Regà, là davanti c'è gente Ok, l'hai visti? Raga, utilizziamo il carattolo d'urto? No, sei? Andiamo, andiamo, andiamo Aspetta, venite 3, 2, 1 Let's go, baby girl Allora Si va a pushare, signori Si va a pushare senza timore Senza timore, mi raccomando Senza timore e paura di nessuno Senza timore e paura di nessuno Ok, là sopra lo vedo Ok, sono sopra, ragazzi Paura di tutti Rispetto per nessuno Uh, c'entra qua C'entra dietro, raga, raga, raga No, un team intero C'è un martuno, 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 raga Ok, raga, allora Ditemi solo dove sono Eh, bella domanda Allora, ci sta un team là dietro? Ah, raga Pensiamo una cosa alla volta Prima facciamo fuori il team qua, ok? È chiaro, no, no, no È il diverso Mi sparavano da dietro questi qua Uh, uh, pure da destra Ammazza Dietro, destra Non gli dove praticamente Oh, ma dov'è che stanno? Eccoli lì Dirmelo po' che è sotto di me Eh, non lo so Cioè, non sto sparando a caso io Ah Raga, io l'ho visto questo qua È qua davanti Non so se se n'è andato Cioè, lui sta sparando a caso Però l'ha visto Poi non riesce veramente No, no, no È perché prima era lì Adesso non so più dove sia Ok, lì vedo davanti Davanti, davanti, davanti Eccoli là Eccoli, eccoli, eccoli C'è il chinato 110 Bravo, bravo, bravo Andiamo, andiamo, andiamo Poi, andiamo C'è il chinato 110 all'altro Ok È uno da me Ok, vai Ok, ucciso Mamma mia, Rife Ma che gli abbiamo fatto sto poverino? Mamma mia L'abbiamo mangiato, signori Raga, ci deve stare un altro team Dove sei? Ok, sotto, ok Sotto, no problem Fra, no problem Proprio zero problemi Uh, qua, qua, dietro Qua, dietro Ok, raga, questi anche Non sono male questi, eh Ok, sta spammando Niente, ho finito i giocolpi Ah, oh, ma quanto scappano? Aspettate, ragazzi Fermi tutti, fermi tutti In due, ferro Doppio impulso L'ho bulluxato da me Let's go, baby No, no, l'ha fatto pova Non ti preoccupare Questo è un classico, è vero Non ti preoccupare Questo è un classico Sì, vabbè Facciamo fida di nulla Comunque, direi che 10 kill team Non è male, ragazzi Oh, riusciamo a farle 20, eh, raga Dobbiamo farle 20 Oddio, mamma mia No, ragazzi Dobbiamo farle per forza Per sfruttare il land al massimo Il land migliore di Fortnite Ti permette di farle 20 bombe Sempre questo E anche il codice RF Anche il codice RF a volte, eh La prossima safe, ragazzi Tra l'altro è qua da noi Oh, abbiamo fortuna con la safe Adesso giro Ve lo dico, abbiamo fortuna Io sapete dove andrei Andrei sul mulino a vento, raga Bravo High totale, signori È nostro Comunque, a parte i scherzi, raga Ragazzi, sapete che la pistola Leggendare in Edgewood fa 54? Oddio, chiaro Però stai parlando di una R Che è illegale Però lo scar è molto più veloce Tipo quello che sembrassimo Lo scar Raga, non lo so Ditemi voi nei commenti, ragazzi Cosa preferite Mentre noi Proveremo a prendere il prossimo medaglione, ragazzi Lo vedete in mappa Il prossimo medaglione? Lo vedete? No Ok, qua davanti a noi Ok, sì, sì, sì Eccolo qua, ragazzi È nostro Abbiamo un medaglione a testa Se lo prendiamo, eh Io avrei una Granata d'urto, ragazzi Che possiamo utilizzare, se volete Per andare a pushare Ma direi che comunque Siamo in safe Siamo in high ground Andarlo a pushare adesso Siamo proprio da stupidi, Powa Ma noi, mica, ci piacciono le kill? Cioè, io gioco un mini kill Non so poi voi, eh A noi piacciono Ragazzi, vogliamo provarla? Vai 3, 2, 1 T'altro Powa ha detto 3, 2, 1 L'ha lanciata al 2 GG, come al solito Ok, regà Allora, è qua, eh Sono qua e devono essere per forza sotto Probabilmente Oddio, allora In realtà Non può Cioè, magari hanno già preso il rift Non l'abbiamo sentito Ma no, sono sopra l'isola, raga Proprio, sono direttamente sopra Ne potrei cechinare uno, forse, eh Allora, se tu lo cecchini ferro È tanta roba, te lo dico, eh Eh, ma non possiamo pusharli Ma vuole vero Arriva il treno Ragazzi, occhio che sul treno di solito C'è gente Occhio, mi raccomando Vai, va, va, va Fa nulla Ci salgo io No, non salirci, idiota Ti ho appena detto Non salirci Raga, ma sono uscita dall'isola Ah, no, sono ancora là Cioè, più che altro uno cechinato 110 Oh, che cato Crackhead, crackhead uno Bravo, l'hai fatto cadere Oh, oh, l'ho ucciso Ma come ha fatto a ucciderlo Bravo, l'hai fatto cadere È caduto Gli hai spugnato tutto Andiamo, 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 andiamo Raga, andiamo Allora, si cacchi se fuori No, 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 non è vero Non andiamo, non andiamo Eh, raga, è fuori safe, purtroppo Ma intanto tanto Non riescono a ributtarlo Eh, no, raga Non dovrebbero riuscire Anche perché la safe fast Dovrebbe togliere tanto Capito qual è il problema Powa, powa No, no, no Non sto pushando Non sto pushando, raga Tranquillo Vuoi andare a prendere Vuoi andare a prendere Il medaglione No, no, no Raga, è craccato Quello col medaglione è craccato Uh, è morto, è morto Quello col medaglione Ok, tornati indietro, raga Tornati indietro Vai a prenderlo e prendi il rift Esatto Orco Dietro, dietro, ferro Dietro, ferro Dietro c'è il medaglione C'è il medaglione dietro di noi Un team Eh, questo è un team da tre E qua servirebbe Powa Powa, abbiamo bisogno di una mano Vai via Arrivo, 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 raga Let's go, baby Let's go, baby Un ucciso Ah, mi ha distrutto, mi ha perso Sono in safe, sono in safe, sono in safe, sono in safe, raga Eh, anch'io sono dovuto andare in safe C'ho 40 di vita, raga Ok, c'ho dietro Ci vado pure io Arrivo da voi, raga Io sono l'unico senza medaglione, raga, ricordate Ok, ok No, no, no Arca trota Eppure da me, ne abbiamo tutti uno Se aspettate, raga, io questo me lo dovrei fare 40 Ah, è il medaglione, quello da me, proprio Se ce la fai ferro, tanta roba, eh Non posso Oh, mio Dio Fermi Eh, no, si è scappato Ok, raga, easy Allora, calma, calma Sono tutti i medaglioni, sono intorno a noi, raga Non ha senso sta roba, ok Pusciano tutti me, raga Io ho finito il mazzo, ho finito il cura Ho finito tutto Arrivo, 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 arrivo Ma porco mondo Ma poi che mi sono bloccato tra le strutture di un altro Ok, sono sopra Ok, ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Eh, sì, arriva da te Eh, raga, niente Ce n'è uno che è da me Quello col medaglione è qua da me, eh Oh, che boba Raga, siamo messi in una brutta situation Uh, 103, raga, gli ho fatto Ma c'ho pochissima vita anch'io, eh Sono convinto, ragazzi, ci possiamo fare, però, eh Anch'io sono convinto Occhio, però Avete pure vita? No, non credo, vero No, io non Pensate voi, io non ho neanche cure scudo, raga Dovresti darmi un medaglione Io scildoni, esatto Io scildoni, vieni a me No, ma troppa il medaglione, puva Eh, no, mi sto curando C'ho poca vita, pure È meglio che lo tengo io, raga C'ho pochissima vita Allora, raga, calma Calma il sangue freddo 12 kill Abbiamo due medaglioni Non possiamo perdere Ok, craccato uno Craccato uno, distrutto, 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 distrutto Ok Tento quello col medaglione Ok, raga, allora Calma, calma Aiuto, calma il sangue freddo Ho un impulso, lo usiamo? Vai, usala, usala Vai, 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 vai 3, 2, 1 Ok No, proprio da un team siamo finiti, raga Porco, 2 Eh, raga, era l'unica, eh Easy, easy Raga, allora, calma, calma Siamo messi in realtà Non così male come eravamo messi prima, eh Ok, c'è un tipo sotto 54 54 Ragazzi Ucciso, ucciso Ok, bravissimo, bravissimo Farrow Davanti, davanti Ai, ai 26 ancora Occhio, 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 occhio Raga, allora È un po' complicata La prossima safe comunque, raga, è dietro di noi, eh Oddio Oh, mio Dio, raga Ma quasi preso Oh, mio Dio, che mira questo Eh, occhio, raga Questo è veramente forte Allora, eh Raga, aspettate un attimo 3 team ci sono, sbaglio Esatto, esatto 3 team Non sbaglio, svaldo Svaldo Sbaglio Ok, tu di là, raga Quello è un team proprio completo Devo provare sempre la nuova in testa C'è chinato 1, 110 Guarda di là, guarda di là, guarda di là, guarda di là 28 bianco Ok, raga, noi andiamo in safe Poi stiamo ad andare in safe, raga Poi stiamo ad andare in safe Con calma Bisogna assolutamente riuscire ad arrivare alla safe zone C'è chinato 1, altro 110 Ok, raga Allora, vedi qua la casa che magari troviamo delle cure Ok, raga, io in realtà sono in safe, sono nel chill Eh, però delle cure vita Raga, qua sarebbero fondamentali delle cure vita Mi sembra che lì dietro le feciano un falò Corri fuori safe Eh, niente Mi sembra che abbiamo Avremo così poca vita per tutto il game C'è chinato un altro, raga Bravo, ferro, comunque sta continuando a fare quello che sa fare meglio Raga, dobbiamo andare da sopra E fozza Ah no, la prossima safe, raga, è là La vediamo, la vediamo La prossima safe è là, raga Ricordiamoci che noi possiamo vedere la prossima safe, eh Dobbiamo iniziare a ruttare verso sinistra Bravi, 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 bravi Ma mia raga, che partita, mio Dio Arrivano, arrivano, arrivano C'ho 8 di vita, niente Sono andato contro la safe Va bene C'è il medaglione quello lì, l'hai visto, refe? Sì, l'ho visto, c'è il medaglione Ferro, tu dove sei? Sei da noi, ok Guarda che là ce n'è uno Se lo riusciamo a uccidere, probabilmente abbiamo tre medaglioni Dove sta? Là dov'è, pinga? Là all'impero romano d'occidente Appena lo vedo lo cecchino Oh, fra, 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 aspetta Andiamo sull'isola Sull'isola c'è un falò, in teoria Eh, ma non credo che Ado, aspetta Un pezzo d'isola si può Eh, esatto, capito Raga, l'ha pieno comunque Eccoli Vini ora, 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 ora Cecchinate un altro 3, 2, 1, vai, prendilo, prendilo Ok No, raga, c'è un altro tipo Damn, no Lo si prende in volo, lo si prende in volo Oh, ma l'ho preso 6 volte Non l'ho preso, lo ha il tato Venti, è quello che mi è delione sta volando Uno craccato, uno craccato sotto No, raga, c'è un medic Aspetta, vai, vai, fatelo, fatelo, fatelo Eh, no way, raga Eh, voglio far Voglio utili No, sei un idiota, no, sei un idiota, no Eh, mi puoi prendere, mi puoi rendere No, mi puoi prendere Eh, no, fra, perdo 10 di vita a botta Porco, due Eh, niente, raga Eh, pensavo Pensavo potessi utilizzare da rampino, raga No, sei un pirla, sei un pirla Devo sta imparare uno, l'ho già imparato Eh, ma c'è il medaglione Io vorrei solo il medaglione Oh, let's go Let's go, bravissimo, ferro Ma perché vedo ferro invisibile io? Ferro devi prendere il medaglione Ferro prendere il medaglione Eh, sì, ho pure pochi mats Mamma mia, ragazzi Comunque, oh, sto giocando tutta partita senza medaglione Nulla, raga, eh Mi state mettendo Una brutta situazione, ok No, no, da me un altro Ucciso un altro No, non è morto No, non era morto No, non era morto Eh, raga, è finita, è finita Non posso vincerla Dai, raga Allora, raga Io non posso vincere più che altro Pochi mats Poco tutto, raga Vieni da me, ti troppo tutto Eh, no, non posso Sei fuori safe Di brutto, bravo Ok Eh, c'hanno tutti i medaglioni Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ref Eh, più che altro ti spaccano Quattro persone master Ah, no, due team Sei proprio uno contro Tre contro uno Eh, dai, starcela Raga, c'è, easy, easy No, raga Arca, tratta Arca miseria Vai Oh, bravo Bravo Boxa di chilla Easy, raga Chill, chill, chill Ricarica, ricarica tutto Anche la R Anche la R Puoi ricaricarti, eh Sopra, sopra, sopra Attento No, no, no No, no No, no Dai, va bene Bella partita, bella partita Raga, comunque Direi che il landing spot Era questo Ok È andato come è andato Purtroppo Posso dire una cosa, ragazzi Bua, sei un co Comunque, ragazzi Siamo arrivati anche a Platino 2 Io vi ricordo che in live Continueremo e proveremo ad arrivare Ad Arreal, mi raccomando Sempre per sempre Codice ref Nello shop Tutto bene, ragazzi